Musica Venerdì alle 21 Ho ucciso 7 volte Per vendetta La omicidi Simona viene con te L'angelo custode Con la pistola Se non mi vuoi No, no, ti voglio Non lo sai nemmeno tu quanto ti voglio Io non voglio che tu la vedi Perché Valentina non c'entra niente Con tutta questa brutta roba Con cui io e te abbiamo a che fare C'era la pistola? Sì E allora guarda che dovrei usarla Perché io adesso Non ci provare La omicidi Venerdì alle 21 Rai 1 Devi stare con lei No con lei Siete voi responsabili di tutto Anche del male che io faccio Ed è per questo che ho deciso Di chiuderti in convento Giovanna Mezzogiorno È Virginia La monaca di Monza Tuo padre non rinuncerà mai A tenere unito il patrimonio Con lei Tony Bertorelli Delia Boccardo Stefano Dionisi Per la regia di Alberto Sironi In notte sono qui ad aspettarti Giurami che non mi lascerai mai sola Un capolavoro firmato Rai Ma che cosa serve tutto questo, Virginia? A riprendermi la mia vita La storia di una donna Che tentò in vano Di riprendersi la vita Che le era stata negata In un convento ci sono delle regole Io sono tenuta a rispettare La mia coscienza E non i suoi capricci Virginia La monaca di Monza Lunedì e martedì alle 21 Rai 1 Gillette Sirius Posso offrirti l'occasione Di fare il nonno per un giorno Che avete compilato? Niente Niente Hai un problema a scuola E non dici niente a libero Tu non sei morto? Non ancora Lo zainetto Gangiro È molto trendy Più sprendi Tre 110 euro E che è d'oro Sto sorgio Chi dice che tengono sto zaino Dello topo Gingiro Yoga Gangiro Proverò quel topo Mia nipote soffre Di un'artrosi alla clavicola Non è proprio un'artrosi Perché mi sono messo in questo guaio? Un medico in famiglia I nuovi episodi Domenica alle 20.45 Su Rai 1 Poi i buoni cori Poi i violini in chita Perché c'è l'orchestra Non è che sono solo io Arrivano anche altri strumenti Dopo Sono mia soltanto io Con un bistro in mano Con la picardina A suonare C'è qualcosa negli occhi Bellissima Sembra una ragazza Che ha indossato una veste non sua Innamorata della vita Voglio sposarmi Avere dei figli Essere una madre Costretta a voltare le spalle Alla libertà Tu lo sai perché tuo padre Vuole che tu sia monaca Non ho vocazione Ma questi sono grilli Grilli Se tu ti sposassi Il patrimonio dovrebbe essere diviso Mettiti contro di me E avrai quello che meriti Hai il volto di Giovanna Mezzogiorno Il mio destino è segnato E è Virginia La monaca di Monza Lunedì e martedì alle 21 Rai 1 I raccomandati Da martedì 19 ottobre Rai 1 Qual è il prospetto informativo? Nel 1999 è partito l'impegno di Ali di Scorta Un'associazione che aiuta i bambini affetti da tumori cerebrali E le loro famiglie Ad affrontare l'adegenza in ospedale Nel miglior modo possibile Oggi Ali di Scorta vive grazie all'impegno di medici Infermieri Genitori E volontari Tutti pronti a dare il meglio di sé Per fare in modo che la speranza resti sempre alta E questo adesso puoi farlo anche tu Siete voi responsabili di tutto Anche del male che io faccio Non è per questo che ho deciso di chiuderti in convento Giovanna Mezzogiorno è Virginia La monaca di Monza Il tuo padre non rinuncerà mai a tenere unito il patrimonio Con lei Tony Bertorelli Delia Boccardo Stefano Dionisi Per la regia di Alberto Sironi Le notte sono andato qui ad aspettarti Giurami che non mi lascerai mai sola Un capolavoro firmato Rai Ma che cosa serve tutto questo, Virginia? A riprendermi la mia vita La storia di una donna che tentò in vano di riprendersi la vita Che le era stata negata In un convento ci sono delle regole Io sono tenuta a rispettare la mia coscienza E non i suoi capricci Virginia La monaca di Monza Lunedì e martedì alle 21 Rai 1 Venerdì alle 21 Ho ucciso sette volte Per vendetta La omicidi Simona viene con te Angelo custode Con la pistola Cioè non mi vuoi? No, no, ti voglio Non lo sai nemmeno tu quanto ti voglia Io non voglio che tu la vedi Perché Valentina non c'entra niente con tutta questa brutta roba con cui io e te abbiamo a che fare C'era la mia pistola Sì E allora guarda che dovrei usarla perché io adesso Non ci provare La omicidi Venerdì alle 21 Rai 1 Devi stare con lei No con me Rai 1 Rai 1 Rai 1 Rai 1 Rai 1